Ristorante Verde Quiete a Montalto Marche, luogo di antiche tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche. Ristorante Verde Quiete, in ampie sale, cucina tradizionale all'insegna di una ricetta culinaria del territorio. Servizio in sala impeccabile, garden esterno, accogliente e rilassante, in un habitat unico e ripetibile. Ristorante Verde Quiete, una meta irrinunciabile per i buon gustai a Montalto Marche.